Savona, se partiamo dalla prima fase industriale, la fase in cui Savona si avvia a diventare una città industriale portuale, che partecipa a tutte le vicende storiche, da fino a 800 in avanti, con una classe operaia via via formatasi, sempre in prima linea, come elemento fondamentale della vita della città, quindi tutta la fase post bellica della guerra del 15-18 e quindi l'avvento del fascismo, le grandi lotte, il regime fascista, l'antifascismo che partiva dalle fabbriche, l'antifascismo durante il ventennio che aveva proprio nelle fabbriche dei punti di riferimento importanti, fino alla fase della guerra della Resistenza in cui Savona e la sua classe operaia dietro grandi prove. Ci furono gli scioperi con le deportazioni in tutto Italia e a Savona in particolare, iniziò la lotta di liberazione, faccio un nome, Gimbe di Lacqua, un operaio dell'Ilva, della grande fabbrica savonese che divenne poi un simbolo della lotta di liberazione, quindi una fase di lotta, di sacrifici, di tragedia, fino all'liberazione e quindi alla ricostruzione, quindi alla fase successiva in cui una classe operaia sempre impegnata in prima linea, attraversando durissime prove, perché ci fu la vicenda, se vogliamo stare a parlare dell'Ilva e tal Sider poi, ma bisogna dire che sia la città di Savona ma anche tutto il comprensorio, il Vadese e la Valle Bormida si sono via via caratterizzati come un grande polo industriale col porto di Savona. Una fase di lotte dell'Ilva, il piano si inigaglia e quindi licenziamenti e poi via via, sempre in difesa del posto del lavoro, sempre per cercare di mantenere prospettive lavorative su Savona, via via fino alle fasi in cui sempre la classe operaia, sempre i lavoratori dell'Ital Sider, attraversamo il periodo ci furono le bombe di Savona e la classe operaia savonese con tutta la città, con tutte le associazioni, partiti, sindacati diedero grande prova di risposta a questi attentati, di risposta collettiva, di risposta organizzata che ebbe una grande risonanza anche a livello nazionale e poi iniziò tutta la fase, iniziò e continuò tutta la fase del periodo del brigatismo, terrorismo rosso in cui anche negli stabilimenti, nelle fabbriche, la classe operaia, il movimento presso, i sindacati, partiti della sinistra diedero grande prova di saper contenere questo fenomeno, rischiava di espandersi come attrattiva di lotta per garantire la democrazia, per garantire nel nostro paese non ci fossero delle ricadute terribili.